Benvenuti su Meteo Giuliaci. Il tempo previsto per Natale. Ebbene sarà una giornata con bel tempo su tutta l'Italia perché sulla penisola si sarà allungato l'anticiclone delle Azzorre. Quindi bel tempo, assenza di piogge, purtroppo anche assenza di neve sui rilievi alpine o appennemici. In compenso saranno poche le nebbie di notte al primo mattino in Lombardia, in Veneto e sull'Emilia. Le temperature invece saranno in ulteriore lieve rialzo e ancora di gran lunga, al di sopra della media, sulle regioni centrosettenzionali. Bene, termino qui. Ancora un caro saluto da Mario Giuliaci e i miei auguri per il Santo Natale.